ciao a tutti buonasera bentornati sul canale twitch di atleta news noi dentro la parola sport ci mettiamo di tutto quindi io dico c'è ronaldo ma ci sono io che faccio 10.000 passi c'è la nazionale italiana ma c'è la squadretta dell'oratorio marco del vecchio che è caro ai romanisti che tu hai intervistato recentemente si vabbè più entusiasmo pare che ha intervistato con lo zio di madre ubriaco a natale quanto tu stai portando dell'italia all'interno di g2 per esempio il tweet di ocelot che fa i complimenti in maniera molto tranquilla all'italia sulla vittoria dell'europeo la cosa nuova ma soprattutto quella parola che gliela insegnata mario ti chiede se con quelle unghie ci nuoti e se è una tattica aggiungo io ma ci puoi spoilerare già qualcosa sulla tua manicure di tokyo no sarà una sorpresa l'atleta league è buono qui è buono no bellissima pompata da parte di ema che si porta a casa questo è il game noi vi diamo un mega abbraccione a tra poco non scappate non scappate ciao